Bella ragazzi, benvenuti in questo prossimo episodio di Digimon Adventure Continuiamo dove ci siamo lasciati E ci siamo proprio lasciati con la suspense proprio Perché non si sa che cosa sia successo Quindi direi di iniziare dove ci siamo interrotti nello scorso episodio Allora, il diabolico Warumonzaimon Quindi sarà qualcosa di... Ah, siamo sempre cari Vabbè, ci sta Solo noi siamo... Sì Vabbè, dai, allora, Patmon lo abbiamo allenato Biomon anche Quindi, ci siamo, inizia l'episodio? Sì, sì, sì Vai, iniziamo Un... Uh... Un... Un... Adesso... ... ... ... ... Takeru! Takeru, teile! Qu'è la sua気za? La temperatura è diminuta. La sua気za è molto bene. Hikari, hai chiesto? Sola? Tachi? Sì, tutti i nostri? Non c'era vicino. Ma questo è stato visto. Il l'accia di un'accia. C'è stato un'accia di un'accia che si è riuscito. Il l'accia di un'accia di un'accia di un'accia. C'è il l'accia di un'accia di un'accia di un'accia di un'accia. E' un'accia di un'accia di un'accia di un'accia di un'accia di un'accia. Sì, puoi riuscire a fare. Sì, io anche per farlo. E' un'accia di un'accia di un'accia di un'accia di un'accia di un'accia. Va bene. Questa porta ovviamente è chiusa. Quindi siamo nei sotterranei della città. Ah, ok, muro invisibile. E se già qua ci fa salvare... Ormai ho imparato la lezione. Dobbiamo salvare. Ogni volta che il gioco ci propone qua questo bellissimo punto di salvataggio barri e pristino noi siamo obbligati a salvare. Ok. Potete anche non farlo. Ma il vostro rischio è pericolo. Come avete appena visto. però direi intanto perché non è di allenarli leggermente... aeeeeeeeeee... ... Eeeeeeeee... Grazie per la visione! 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 Ascettatevi! Teile, mi sono tutto bene, se guarda le persone e le persone. Voi. Ascettatevi! sora Sì, Sì! Chikari-chan! Questo uomo! Nume-mon-ni-ma-ke-luo-na-wa-ru-mon-za-e-mon-sa-ma-ja-ne-e! Questo è tutto! Questo è tutto! Cosa è questo? Chikari... Il corpo è pienso! Sì, il corpo è pienso pienso! Tutto tutti! Sì, prendi! Ci saranno sempre! Forza! Battiamo questo pezzo di peluche! Letteralmente! Orca merda! Orca! Orca! Orca merda! Orca merda! Dai, però che cosa... Aio! Allora... Un altro carica... Attacco che cos'è? Aumentiamo di due stati d'attacco, vai! Orca merda! Vabbè, finché continuo ad attualizzare le artiglie dell'orso, non penso che ci sia un... Un non troppo problema! Grande! Nuova mega scintilla! Ok, questo è il momento giusto di... Anzi, no, neanche! Può farlo benissimo lui! Ok, adesso non stiamo a sprecare... I turni... A gratis! Guardate se... Ci pensa lui! C'ha... Gigakura! E si cura su... Se stesso! Riusci a fare un tramo attacco? Dai, per favore! Grande! Continuiamo a insistere, vai! E... Aumento attacco! Così dovrebbe essere al massimo, ok! Possono essere... L'attacco... Vabbè! L'attacco e tutto il resto può essere aumentato al massimo dei tre stadi! Vai così! Vai così! Vai con artiglia dell'aquila! Bam! 1.700! E un 1.300, vai! Vai anche un'aquila incandescente, tanto per... Un 1.800! Grande così! Vai, lo stiamo distruggendo! È in seria difficoltà! E vai così! No! Porca merda! Va bene, non... Non è troppo... Un problema, ok! Tanto ormai... Per essere sconfitto... L'abbiamo sconfitto! Artiglio dell'aquila! Vai! Un 2.000! Un 2.000! Poco importa! Ok, neanche... No, no, no È stato abbastanza semplice, va Grande Gatomon E anche lui Paramutismo Va bene Questo penso sia per tutti Quando ho con quel simbolo lì E già finisce qua Vabbè dai siamo a 18 minuti Dai ci sta Ok allora ragazzi direi per questo episodio Di Digimon Adventure è tutto Ricordo che se siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e se volete andare a giocare sul prossimo episodio Di questo giocatore di Giochi Mettere un bel pollicione su se vi è piaciuto l'episodio E non renda la vostra in commento e consigliamento e consigliatura che volete E noi ci risentiamo a un prossimo video Bella